via il partito eccoci qui vai vai 3,2, non crollano 4 e un quarto leghiamo il pallo e si Francesco torna fra noi oh mi manca un guanto compralo in mezzo alle sue balle ah chi c'è qua che tocchi te? ehi là è un video? no è un cazzo di gomma e beh Alita adesso inizia a fumare dal tutto chi ha fatto un chiusino nell'igloo? un no? un chiusino no ma c'è troppo la nebbia qua dentro e stiamo respirando e qui non c'è